Fugimus, Santa Dei Geri, Christi, nostras lebrei cazzilones, le desideri... Paolo VI, anche nella fatica e in mezzo alle incomprensioni, ha testimoniato in modo appassionato la bellezza e la gioia di seguire Gesù totalmente. Oggi ci è sorta ancora, insieme al Concilio di cui è stato il sapiente timoniere, a vivere la nostra comune vocazione, la vocazione universale alla santità, non alle mezze misure, ma alla santità. E' bello che insieme a lui e agli altri santi e sante odierne ci sia Monsignor Romero, che ha lasciato le sicurezze del mondo, persino la propria incolumità, per dare la vita secondo il Vangelo, vicino ai poveri e alla sua gente, col cuore calamitato di Gesù e dai fratelli. Grazie.